Tre biciclette salva vita in giro per Pagani e per l'Agro, grazie ad un'iniziativa della Croce Rossa italiana. I volontari nei giorni di festa gireranno per la città di Sant'Alfonso con l'agile mezzo dotato di un defibrillatore automatico. In caso di malori, i soccorritori potranno giungere facilmente dalla persona che si è sentita male e assicurargli la giusta assistenza nell'attesa che giunga sul posto l'ambulanza del 118. Pagani sarà la città pilota di un progetto innovativo. Si tratta infatti di una delle prime esperienze campane di bici soccorso per la rianimazione cardiorespiratoria. Le clean bici saranno costituite da tre unità di cui oltre ai materiali di primo soccorso ci sarà l'utilizzo allestito con un defibrillatore semiautomatico e quindi praticamente verrà data la possibilità, speriamo mai, ma quella dovesse accadere di una maggiore presenza, soprattutto in caso di eventi, di manifestazioni dove c'è una cospicua presenza di persone e quindi dove praticamente è più richiesto o c'è comunque la maggiore incidenza di possibilità di un arresto cardiaco e quindi la possibilità di intervenire in modo efficace ed efficiente immediatamente. Le bici saranno disponibili per l'intero territorio ma in particolare qui a Pagani saranno presenti da domenica e a seconda anche della disponibilità dei volontari. Sì, il servizio che adesso parte per la prima volta nell'Agronoceno Sarnese come clean bici vedrà come progetto, come paese pilota proprio Pagani e quindi oggi l'inaugurazione avviene non a caso a Pagani e vedrà fondamentalmente i volontari presenti la domenica o comunque in quelle giornate in cui c'è maggiore presenza di persone, affollamento proprio ad esempio anche nelle giornate della festa della Mono delle Galline saranno possibili trovare i nostri volontari con la clean bici per appunto prestare questo servizio importante di primo soccorso e di indicazione anche.